Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, il sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina. Oggi qui perché vogliamo leggervi un passaggio dell'epistolario di Padre Pio, il volume numero 1, dove sono raccolte tutte le lettere che Padre Pio inviava e che i padri spirituali inviavano allo stesso Padre Pio. Ecco, questo rapporto epistolare tra Padre Pio e i padri spirituali raccolto nel primo volume, 1917, 2 aprile. Padre Pio scrive al suo padre provinciale, Padre Benedetto, e gli scrive, Padre carissimo, Gesù continui a possedere completamente l'anima vostra fino alla trasformazione completa in Lui nella Gerusalemme Celeste. Questo mio augurio che io faccio continuamente davanti a Gesù per l'imminente festa di Pasqua vi conforti, vi sorregga in questa prova durissima alla quale il cielo vi sottopone ancora come capo della provincia. Ecco, Padre Benedetto era il ministro provinciale. Piaccia a Dio riunire presto i nostri fratelli dispersi per comune conforto dei suoi eletti. Siamo nel pieno conflitto, nel primo conflitto mondiale, quindi tanti frati erano stati chiamati a prestare questo servizio militare. Quanto io prego per il compimento di questa prova lo sai Dio, ma quanto prego poi perché il buon Dio vi conforti, vi santifichi sempre più, non saprei esprimerlo in nessun modo. Solo valgo a dire che il mio cuore ama l'anima vostra veramente e incomparabilmente come se stessa e che per lei desidera tutta quella perfezione cristiana a cui anela ardentemente la stessa. Ogni sacrificio che quest'anima va sostenendo ed ogni bene che va praticando è tutto diretto a Dio per la comune santificazione. Cosa debbo dirvi poi mio carissimo Padre riguardo al mio spirito? Io non intendo più nulla da me stesso. La prova va sempre più crescendo e da vari giorni in cui io soffro dolori, anche fisici, insopportabili. È vero che siamo in giorni di passione, ma che volete Padre? L'arco sempre teso, è facile che si spezzi. È vero che non mi manca il coraggio e l'uniformità al divin volere, ma quel lamento spontaneo che il più delle volte sorge senza riflessione dall'intimo del cuore, si fieri potest transeat a me calix iste, mi confonde e mi riempie sempre l'animo di timori.